ci sono dei regolamenti ben chiari ben precisi io rispetto questi regolamenti tra l'altro sono legalmente una donna cioè il mio documento cita che sono di sesso femminile con un regolare atto di nascita al femminile lo stato italiano mi ha riconosciuta donna e dunque è tale che io venga trattata grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.